Visto che sabato finalmente parteciperò alla mia prima Coppa Cobran, quindi la Milano-Selvino del club ma considerando che io vivo d'ansia e ho paura dell'ignoto oggi sono venuto a Nembro a provare la salita Nembro-Selvino che è il pezzo più duro di tutta la gara sono 10 km di salita con una media mi sembra del 5,5 con punte dell'8 e a volte del 13 e niente, senza dire nulla al club io oggi sono venuto a provarla spero di non scoppiare mi stavo dimenticando di dirvelo ho anche la sella nuova da provare oggi speriamo che non mi faccia male al culo considerando gli 800 metri di dislivello positivo direi che i 35 km fatti, anche se pochi, sono stati soddisfacenti pensavo di faticare molto di più su questa salita e invece con la mia andatura, pian pianino, rapportino, sono andato su adesso sarà da vedere sabato perché oggi sono partito da Nembro e sono andato su a Selvino sabato si partirà da Milano, quindi si arriva a Nembro con già 65 km sulle gambe poi ci sono i 10 km di salita con 500 metri di dislivello positivo e quell'ultimo strappo malefico al 15% per arrivare da Selvino al K2 dove c'è il traguardo della Cobran del club staremo a vedere sabato visto che sabato parteciperò per la prima volta alle campane suonano le campane grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti